bentornati su cper tv siamo arrivati all'otto settembre 2020 oggi ambra 20 minuti 10 push press 10 deadlift 10 toss to bar e 500 metri di bike erg i pesi e le scalature sono sulla grafica qui di fianco per oggi abbiamo terminato ci vediamo domani per un altro vuoi di insieme su cper tv e naturalmente buon divertimento e buona giornata